Nata e cresciuta a Bergamo, alta, perché è importante, è alta, imparò a sciare a Foppolo a tre anni. Di lei, dicono, aperte virgolette, voleva stare davanti pure nelle elezioni. A otto anni vinse la prima gara con i maschi. Questa è Sofia Goggia. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per avermi invitata. Allora, questa... Grazie, aspetta a dirlo, non si sa mai. Comunque, questa è Sofia Goggia, ma molto di più Sofia Goggia. Ma, diciamo che quella era Sofia Goggia, poi diciamo si è evoluta negli anni e ne sono passati quasi 20 da allora. Però, sì, sono nativa di Bergamo, città alta, bisogna sempre specificare, perché c'è Bergamo alta, Bergamo bassa, e sempre hanno quasi due città diverse, io sono di città alta. E sono cresciuta a Foppolo, tre piste in croce, due scuole sci, il sabato e la domenica salivamo con mamma, papà e mio fratello e si faceva quello, si prendeva le lezioni di sci e si andava col cane. Comunque, abbiamo già archiviato un discorso, perché è tanto si parla ultimamente di donne che vogliono gareggiare con gli uomini e battere gli uomini. Sofia, questo capitolo l'ha già risolto da tempo, quindi lasciamo perdere. Perché, attenta, non parleremo di sci, non parleremo di pressione, perché sei un personaggio a 360 gradi. Ormai sono domande inflazionate, chiedo solo di quello. No, ma poi sei veramente un personaggio a 360 gradi, sei, come si suol dire, una influencer? Si dice così? Ma si dice così, però non penso di essere proprio un influencer. Ma non lo so, guardi. Non credo. Breve aneddoto. Ieri ero in redazione, parlavo con dei colleghi, ho detto, domani ragazzi c'è Sofia Goggia. Uno è schizzato come una molla in piedi e ha detto, allora si balla la Papu Dance. Ah, ma no. Sai da dove è nata questa Papu Dance? Allora il Papu, giocatore Atalanta, quindi Bergamo. Ci siamo visti dopo la fine della stagione nella sua palestra a Bergamo. E allora io gli ho buttato lì la battuta dicendogli, Papu guarda che quando vado a Ushuaia, in Argentina, faccio la Papu Dance con dietro la bandiera e lui fa, va bene, poi mandamela. E allora, chi non l'ha vista, può guardarla adesso. Facciamo vedere. Ma guarda che è un disastro, c'è tutti la ballano, bambini, piccoli, ho visto bambini che segnano sul campo da calcio e lo fanno. Poi ho visto la Lara farlo e dicendomi, lo slalom fa fare brutti scherzi, perché anche io quel giorno avevo la mentoniera, infatti ero tutta bardata. Era l'ultimo giorno in Argentina e poi ho visto che anche la Lara l'ha fatta e qualche chiclao. Quindi diciamo che io e lei abbiamo fatto la Papu Dance nel mondo neve. Ok, avete la paternità di questa... Comunque, essere un personaggio come Sofia Goggia significa assurbirsi etichette, definizioni. Ti lasciamo questa libertà però, perché penso che sia anche un po' noioso sentirsi dire Sofia è così, Sofia è cosà. Ti lasciamo qualche secondo per descriverti. Magari come hai fatto qualche mese fa quando ti sei definita mefistofelica. Ti sarebbe piaciuta vestire i panni di mefistofile nel duello tra Lara e Schifrin. Allora dissi, sarò mefistofile tra la... non mi ricordo se fossero la Lara e la Schifrin o forse la Stueck e la Schifrin. Comunque ero lì che mi piazzavo sempre con i podi, seconda, terza, quindi come una formichina continuavo a mangiare punti su punti in Coppa del Mondo nella classifica generale e comunque loro continuavano a duellarsi. Quindi ero sempre lì a dargli un po' fastidio, punzicchiare uno, punzicchiare l'altro. Alla fine hai fatto molto di più che punzecchiare. Alla fine ho punzecchiato un pochino loro, però chiaramente ho continuato per la mia strada. Non era l'obiettivo punzecchiare loro. Insomma, 13 podi è un po' più che punzecchiare, è a casa mia. E portare a casa ottimi risultati. Vuol dire arrivare sempre, cercare il limite, però fermarsi un attimo prima, come dicevi tu, quasi accarezzandolo? Limite? Sì. Eh, guarda, io ho avuto una vita, diciamo, sul confine labile del limite. Tantissime volte mi è capitato di sporarlo, di rischiare inutilmente, di andare oltre, infatti farmi anche male con gli infortuni. Adesso invece cerco di osare, che è quella fase prima del sorpasso del limite, che però mi permette di andare forte, ma con intelligenza, se di intelligenza si può parlare. Quando ho comunque la vena chiusa. Quindi, cioè, ci rassicuri, le goggiate non è che sono definitivamente messe in un cassetto? No, allora, le goggiate fanno parte del mio stile, però diciamo cerchiamo di limitarle, perché sono talmente eclatanti e mi fanno perdere tanti centesimi. Cerchiamo veramente di limitarle al minimo indispensabile. I centesimi sono importanti, importantissimi, soprattutto in una stagione come quella che sta arrivando. Allora, tu hai detto, mi piacerebbe fare un po' d'arbitro nella lotta, dicevi, tra Lara e Schifri l'anno scorso. Però come lamentiamo che un arbitro dovrebbe essere Super Partes? Cioè, dopo tu vai a un concerto con una delle due? Eh, ma allora, fuori dalla pista si ha amiche, poi dal cancelletto di partenza, dal momento in cui si apre proprio la levettina. Cioè, si riesce proprio fino a quel punto? No, fino alla linea del traguardo, lì è un anger game, cioè veramente una guerra. Però poi non vedo il motivo per cui due persone, due ragazze della nostra età che parlano comunque la stessa lingua, non possano andare anche fuori a bere un caffè o a trascorrere dal tempo libero insieme, divertendosi. Non è facile ed è sintomo di intelligenza, perché tanti non riescono comunque a scindere le due cose. No, è vero, è vero, però io cerco di farlo. E infatti ho ottimi rapporti con abbastanza tutte le ragazze di Coppa del Mondo, a dir la verità. Però ce ne sarà una che sopporti. Ma no, e anche se ci fosse non si dice. Ah, ecco, ok, no, ma no, si vedeva invece benissimo. Sì, ci sarebbe lei, ma non lo diciamo. Senti, torniamo a quel concerto, eravate a Locarno? Eravamo a Locarno e lei mi ha fatto una mega sorpresa. Perché c'era il Festival Moon and Stars e c'erano Fedez e Jax, di cui io vado... Sono una fan molto spinta, diciamo. Ognuno ha i suoi difetti. Ognuno ha i propri difetti. No, scherzo, è una battutaccia. E niente, lei mi ha organizzato di andare a vederli, ma non solo. Mi ha pure portata nel backstage per fare la foto con Fedez. Notevole. Quindi nessuno in Italia c'era riuscita, nessuno era venuto in mente. Sono dovuta venire in Svizzera a Lugano, a Locarno. A Locarno, grazie a Lara. La scaletta del concerto te la ricordi? No, però entra con Senza Pagare. Senza Pagare? Sì, il singolo, la hit dove è estiva. Mentre sembra semplice la cantata? Sembra semplice... No, non mi ricordo. Perché a dire la verità faccio un po' di confusione. Perché io sono stata quest'estate in tre concerti e tutti e tre erano di Fedez. Sì. C'è una volta a Milano, una volta a Parabiago e una volta qua. Quindi mi pare che una delle tre volte l'abbia cantata. Non sono sicura se anche in questo. Perché trovo che sia una bella canzone. Sembra semplice. Te la ricordi la melodia? Certo. Aspetta, forse arriva. Per ripetare artisti per ripetare, sentirsi protagonisti e passare metà al tempo a far finta di divertirsi. Vai, vai, vai. Eh no, non riesco a stare dietro ai tempi di Fedez perché ha una velocità di scansione pazzesca. Però se te la togliamo riesci a cantarla? Eh no, 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 vado fuori il ritmo. Vabbè, ma perché ti piace così tanto Fedez? Per questo Fezzo. De viscido gli amici non esistono e per quanto può essere bello stare sotto il riflettore quelle luci non si seguono una volta che sei fuori. Ah, sì. Io di sicuro sì, lui no. Però c'è delle grosse verità che accomunano magari sia una vita da artista come può esserlo lui che la vita degli sciatori o comunque degli sportivi. E la musica è una parte importante con la tua vita e la tua giornata? Abbastanza, soprattutto nelle gare quando io trovo la musica giusta, la mattina mi alzo con il groove in testa, vado con quella canzone lì in loop tutta la giornata, infatti sono un po' strana su queste cose, però vado avanti e ogni gara ha le proprie canzoni che poi cambiano di tappe in tappe, di anno in anno. Allora, sei in giro in Coppa del Mondo oppure ti stai allenando, senti della musica, come la mettiamo? Però con il suono affascinante perché è così di un vinile, quindi magari quel gracchiare della puntina. Eh, guarda, vinile è una mia grandissima passione che però come tutte le mie passioni a parte lo sci non riesco tanto a coltivare. Io ho la casa invasa dai vinili per lo più di musica classica e di canzoni degli anni ottanta, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e sono tutti di mio papà, però ho iniziato a comprarne anche io qualcuno, chiaramente io ne ho cinque o sei, tra l'altro pure quello di Fedez per dirvi il livello di malattia che ho raggiunto e proprio mi piace, è un momento che dedico a me stessa quando sono a casa, mettere la puntina, sì sì è proprio bello anche sentire con le dita diciamo le rugosità degli album anche magari più vecchi e poi metterlo su, poi con la puntina e ho queste due casse enormi a casa e poi sento la musica al volume che voglio io. Il primo vinile che hai comprato te lo ricordi? Il primo vinile che ho comprato è stato quello dei Pearl Jam. Ma già di qualità quindi. Sì poi sono andata a Fedez. No ma adesso scherzavo assolutamente. No è così. Con un buon disco si possono fare tante cose, ci si può rilassare, ci si può concentrare, si può pensare, si può leggere, si può studiare. Allora a dire la verità io non sento la musica quando leggo, cioè quando leggo, leggo e quando studio, studio. Sei molto uomo da questo punto di vista, due cose insieme no. esatto, assolutamente sì, però no, la musica in vinile lo metto su quando magari non so, faccio la valigia o altri momenti, poi quando sono veramente concentrata sulla lettura mi immergo totalmente nel libro e penso che anche se ci dovesse essere la musica non la sentirei. Cosa stai leggendo adesso? Se posso farmi gli affari tuoi. Adesso sto leggendo un libro che si chiama Il potere del cervello quantico e non ho ancora capito se sia... Aspetta, Il potere del cervello quantico? Stai parlando con un giornalista sportivo, quindi fai attenzione. No, è tutto sull'entenglement quantistico e su come la forza del pensiero riesca a modificare determinati aspetti della realtà, però non ho ancora capito se sia uno di quei libri che vendono tipo gli psicologi perché tanto la gente è ignorante in materia e legge così oppure se ci siano delle verità anche se ogni tanto secondo me qualcosa ci... È affascinante, cioè mi stai dicendo, semplifico sempre per il discorso che facevo poco fa, c'è un giornalista sportivo non puoi pretendere più di tanto, cioè tu ti concentri su una cosa e alla fine riesci a far accadere questo, cioè mi concentro... Sì, sì, una cosa del genere, ma vorrei ancora capire perché io sono a tre quarti di questo libro e sta continuando a fare degli esempi e poi continuo a dire a ogni fine capitolo nel prossimo capitolo vi svelerò il segreto, solo che questo segreto non è ancora stato svelato. Secondo me arrivi all'ultimo capitolo e dice prendete il segreto. Prendete il secondo libro e se nel secondo libro non ci sarà, allora ci sarà il terzo. E prima di questo ho letto Il peso dell'acqua di Paltrinieri, che è il nuotatore mio italiano preferito e allora ho letto il suo libro. E come mettiamo insieme queste due cose? E come per la musica, passi da Fedez a Mozart e passi da... Io sono così, cioè non ho via di mezzo, non ho una sorta di continuità o dei nessi logici. Oh, ora chi c'è? È bravo. Lo sguardo... Allora, posso interpretare? Lo sguardo è... È bravo, secondo me non era... È bravo, proprio la prima cosa che volevo dire. È bravo... No, no, bravo. È bravo, basta. È bravissimo. Bravissimo, proprio. Bravissimo. Eh, vabbè, eravamo... Volevamo fartelo trovare qui in carne ed ossa, ma... No, è in Australia in questo momento. A provare a battere il record di questi 1500, che lo stai inseguendo da, penso, tre o quattro anni e non è ancora riuscito. È un vero campione. Poi mi piace la sua umiltà e il suo modo di porsi la, diciamo, l'equilibrio comunque nella sua freschezza di essere giovane. E io invece, secondo me, ogni tanto sono troppo esuberante. Però sei umile. Boh, me lo auguro. Ah, beh, questo... Eh, non tutti la pensano così. Perché confondono, che cosa? La voglia di fare, l'esuberanza? No, secondo me, io sono estremamente ambiziosa e a volte l'essere ambiziosi e l'essere anche sicuri di se stessi possono essere scambiati per mancanza di umiltà. Sì. Però no, cerco, come dice il mio psicologo, non bisogna essere umili, bisogna essere equilibrati. E io sono alla ricerca ancora del mio equilibrio, però pian piano... Ma è che detta così sembra anche semplice, però... Eh, sì, ma tante cose sembrano semplici, poi è quando ci sei in mezzo che fai più fatica. Non è per niente semplice passare da Bergamo, fare diversi chilometri e salire in una capanna a Cogne, perché, ma scusa, sopra Bergamo non c'erano... Perché a Cogne? Allora, noi abbiamo l'appartamentino a Foppolo, che è quello che usavamo nei weekend per sciare. Mio papà, cacciatore, negli anni Ottanta andava nelle valli sopra Cogne a Caccia. Siamo, scusa, in effetti stavo dando per scontato una cosa, ci siamo spostati da Bergamo, Cogne, Val d'Aosta, quindi è per quello che dicevo che non è proprio... Sì, sì, non è, esatto. È un po' fuori mano, scusami. E andava a Caccia in quelle valli, ha riscattato questo, cioè dei vecchi ruderi di una, diciamo, casa ormai del tutto demolita, riscattandoli, poi lui essendo ingegnere ha fatto tutti i calcoli e tramite muli e elicotteri ha portato tutto il materiale in quota e ha, diciamo, ricostruito questa, diciamo, baita, che più che baita è un bivacco, perché ha 2241 metri. Devi lasciare la macchina a Jimihan, che è il paese dopo Cogne, e da lì parte il sentiero e chi ha un buon passo riesce a raggiungerla in un'ora e un quarto. Però è tipo into the wild, non prende il telefono. L'acqua è attaccata direttamente alla sorgente sul versante opposto della montagna. Non so come abbia fatto a scovarlo mio papà, però ogni tanto lo vedo su che traffica con i tubi. E chiaramente non c'è elettricità, quindi c'è lampade a gas, fornelletto a gas, tutto proprio into the wild, non c'è la doccia, ci si lava nel torrente. È un paradiso. Cioè, in tanti dicono, ma tu sei matta a andar lì. E invece lì si trova l'equilibrio, secondo me. Sì, perché si stacca dalle cose che non sono essenziali. Infatti sono stata su quest'estate ed era due anni che non andavo. E diciamo, è stata una settimana solo con la mia famiglia, con la mia bella, mia mamma, mio papà, mentre mio fratello era in vacanza con l'Amorosa in Sardegna. Punti di vista, ormai c'è meglio la montagna o la Sardegna, punti di vista. Dipende anche dai momenti. Io sono molto più, diciamo, per la baita. E veramente mi sono ritrovata un po' bambine, del posto, diciamo un po' anche dalle mie origini, perché d'estate, quando eravamo piccoli, trascorrevamo metà estate qua, in baita, e l'altra metà tra Bergamo e comunque la Sardegna. Curiosità. Abbiamo oltrepassato, credo, la metà della nostra chiacchierata. Ti sei rotta le scatole o qualcosa di peggio? Eh sì. Sì o no? No, 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 solo in palestra, no, a dire la verità, le uniche balle che si sono rotte sono quelle lì, e dovevo tirare questa palla contro il muro, poi fare dei barpees in mezzo e poi rilanciarla, solo che aveva già una crepettina, l'usura, tutti che comunque la utilizzano in quella palestra, si è rotta a me, un cocomero. Le hai dato il colpo di grazia. Esatto. Adesso sarà stata anche usurata e quello che vuoi, comunque ci vuole già una bella forza. Beh, insomma, poi io quando faccio quei circuiti lì proprio un po' ignoranti, perché non è che hanno un gesto finissimo, cerco di mettere tutta la forza brutta di cui sono capace. Poi capita per esempio di buttare magnesio apertura. Sì, la magnesite, sì. Cioè, insomma, avevo lanciato la fitball dietro la Michela Moioli, che è un'atleta italiana che fa snowboard cross molto forte e lei si allena con me e proprio facciamo i programmi molto simili, abbiamo lo stesso preparatore. Ho lanciato dietro questa fitball mentre lei camminava, solo che al posto di prender lei ho preso il barattolo enorme di magnesite che stava in centro alla palestra e si è rivoltata tutta su quel pavimento nero antitrauma che è fatto di gomma e infatti c'era tipo un... Tutto bianco. Hai passato all'allenamento a... No, beh, a fine allenamento poi... Senti, abbiamo parlato prima di uno dei tuoi difetti, cioè Fedez, scherzo sempre, tra le altre tue insane passioni c'è quella della Juventus. Ma, allora... Qui eri in partenza? Qua avevo appena ritirato i biglietti per Cardiff a Torino. Perché a Cardiff hanno giocato una partita a Juventus. Sì, però quando si è sotto pressione è lì il momento. Te lo dico io che insomma alla combinata mondiale di Saint-Moriz quando la Stueck era caduta e io ero prima in discesa, lei è caduta alla quarta porta, quindi c'era il suo minuto e mezzo di discesa, un altro minuto canonico di riposo. Io vedevo, c'erano in testa la Oldener, la Gisin, vedevo io solo tutti i guardaporte seduti, no, cioè posizionati sui propri bastoni, lì che mi attendevano. E tutte le... tutta la platea in fondo alla pista con queste bandierine svizzere che sventolavano, io lì ho sentito la pressione. Quindi anche se la Juve ha giocato male, insomma, ogni tanto può accadere. Non era mia intenzione, però non volevo parlare di pressione o ricordare... Ah no, vabbè, ma no problem. E comunque sono andata a vederla con il mio miglior amico Giovanni, che ho conosciuto chiaramente, compagno dell'Elementari. Dall'Elementari e siamo cresciuti insieme, anche lui è di città alta e ci sentiamo quotidianamente. E lui è veramente un invasato della Juventus. È pure giornalista sportivo, scriveva per dei siti online di calcio. E quindi quando io ho saputo della possibilità di poter andare a Cardiff, ho detto ti regalo il viaggio. E io sono andata su per la Juve, però anche per lui, perché lui non avrebbe mai avuto la possibilità di prendere i biglietti. Quindi hai fatto un gran bel regalo. Ma sì, gli voglio bene, penso che l'amicizia sia anche questa. Sto pensando a quello che dicevi prima di Paltriniere, ma meglio un'altra finale di Champions con la Juve o due vasche con Paltriniere, la prossima volta? Perché non entrambe. Va bene, ok. Leggi, leggi tanto, sei curiosa, leggi anche poesia. Cioè sei veramente... E questo è uno dei versi... Mi dicono del tuo poeta perfetto? Allora, John Keats... La vita è un'avventura da vivere, non un problema da risolvere. John Keats è il mio poeta preferito. Pensa che io quando l'ho studiato in quinta liceo, neanche a scuola perché a Bergamo non mi accettavano più l'iscrizione nonostante io avessi fatto i primi quattro anni in un liceo privato. L'ho studiato con la professoressa di inglese che diciamo mi dava ripetizione o comunque mi aiutava a studiare il programma. E io me ne sono follemente innamorata. Credo che sia una delle cose più belle per un professore sapere che riesce a trasmettere... Sì, sì, tanto che quando io sono andata a Roma la prima volta... No, ma forse non ero in quinta liceo, forse un attimo prima. Sì. Romantici, forse in effetti. Sì, forse terzo. Non mi ricordo bene. Però so che ho studiato John Keats, poi sono andata a Roma a dicembre quando avevo le visite mediche per entrare nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. E sono andata alla piramide a vedere la tomba di John Keats. E poi quando ci sono passata, dopo ancora quattro anni a Roma, sono andata con l'ex di allora in casa sua in piazza di Spagna. Non era a casa sua, però era la casa dove aveva vissuto l'ultimo periodo perché era malato e era sceso dall'Inghilterra per curare i polmoni. Esistezza breve ma intensa. Sì, assolutamente. Con grandi cose scritte da John Keats. Sto guardando, sto notando la tua camicetta bella. Grazie. Però ti ho visto anche più elegante, ancora più elegante. Sai? Ah, col dirndl. Ecco, l'ho fatto dire a lei perché io mi sarei incartato di sicuro. Sì, infatti c'è un'italiana che dice dirndl. È un codice fiscale. Esatto, un nome per sei lettere con una sola vocale è già tutto dire. Allora qua abbiamo fatto una roba pazzesca. Io e le altre due mie compagni, Curtoni e Marsaglia, andando al matrimonio dell'Anna Schnarf ad agosto, ci siamo fermate in un negozio per prendere il dirndl. E noi italiane, e c'era anche la Bassino, allora è stato paradossale perché noi italiane siamo andate vestite da altoatesine. Cioè io proprio dalla calza, anche il calzino con la stella alpina, proprio gasatissima. Convinta che? Tutte convintissime di essere una dell'altatesina anche noi, siamo arrivate lì e tutte le altatesine invece erano vestite da italiane. Cioè per l'unica volta in cui avrebbero potuto stare nelle loro vesti. Però noi ci siamo divertite comunque molto, infatti tutta la famiglia del marito dell'Anna Schnarf ci ha fatto i complimenti perché è stata una cosa simpatica. Insomma è il mondo che va al contrario, è stato proprio bello per quello. In chiusura, Bergamasca, di Bergamo alta ricordiamo perché altrimenti è una cosa importante, una Bergamasca deve saper fare assolutamente una cosa. A polenta, perché come si dice a Bergamo, se te sei mia bude fa la polenta, te sei nissu. Ecco, non credo che ci sia bisogno di una traduzione perché sai, Ticino e Bergamasca sono... Insomma qua ero nel mio bivacco giusto quest'estate e vabbè lì la polenta, il pasto, porti la farina, l'acqua della sorgente è buona, pura. E in quel caminetto che va con tutta la legna che facciamo quotidianamente, tagliando i rami dagli alberi che cadono sui sentieri, facciamo la polenta. A occhio e croce doveva essere anche buona, quindi vabbè, quanta invidia. Sofia, a me non resta che dirti grazie perché mezz'ora è letteralmente volata. È vero. Spero che non sia stata così terribile. Assolutamente, mi sono molto divertita, grazie. Allora, sei sicura di volerlo dire perché? Ecco, non è finita proprio. Non è finita? Noi adesso andiamo avanti e parliamo di hockey, perché comunque da noi l'hockey è molto importante, è uno sport di quelli, un po' come il calcio a Bergamo. Ok. Però per te c'è dell'altro, ti va? Va bene. Allora, per il momento ti diciamo ciao, ma solo per il momento, ok? Va bene, allora ci fidiamo dopo. Sapete dov'è Sofia Goggia? Dovrebbe essere in cucina, nella cucina di cuochi d'artificio. Vedo già pronto anche un menù interessante, un menù di lasciatrice polenta e funghi. Vista l'ora... Ah, ma c'è anche Luca Invernessi. E appunto, appunto, caro Stefano. Per adesso in cucina ci sono io a fare la polenta. Però, vi ho seguiti durante tutto il pomeriggio, soprattutto l'ultima mezz'ora, l'ho seguita molto molto bene. E allora, Sofia, vieni avanti. Perché, è vero, a Bergamo si dice, se sei mia buona fa la polenta... Te sei nissù. Infatti adesso controllo che tutto sia... Mio nonno era bergamasco, era di Gaverina e la polenta la preparava sul fuoco, come tua nonna. Come... no, come mia nonna, come faccio io ancora, io sono un'all'antica ormai. Allora, ti lascio alla polenta, perché in Ticino la polenta si accompagna spesso, non so se è così anche a Bergamo, ai funghi, qui abbiamo dei bellissimi porcini che abbiamo trovato, trovato, sottolineo, non comperato, nei nostri boschi e allora io mi occupo dei funghi e tu mi spieghi come fai la polenta. Ma, allora, la polenta è facilissimo. Ci va nel mestolo, l'acqua, quando bolle, metti la farina e inizi a mescolare col mestolo, finché non si crea una... diciamo... finché la farina non lega con l'acqua. E poi continui a mescolarla per quanto... Un paio d'ore? Un'ora e mezza, due, abbondanti, tutte buone. Solo che in baita io ho il mestolo molto più... il paiolo, scusami, molto più grande rispetto a questo, quindi la devo sempre spezzare a metà, prendere da sotto e rivoltare la prima metà e poi faccio così anche per la seconda. Capito la tecnica qui, molto molto bene. Tutto in senso orario. In senso orario? È difficile a dire per me perché è un po' l'R, però sempre in senso orario. Molto bene, allora diremo in senso orario anche noi. Io giro i funghi in senso orario, l'appuntamento Stefano per mangiare la polenta e anche i funghi. Facciamo così, fra 45 minuti un'oretta? Ci siamo, vi aspettiamo. Molto bene, a voi. Siamo noi che aspettiamo voi. Se ce li portate qua, noi non possiamo muoverci. Comunque noi saremo qua in senso orario, anche noi, con Andreas che ha detto subito io non sono nessuno perché non sono capace di fare la polenta. Però non preoccuparti, anche chi è nessuno può assaggiarla, magari ognuno ha il suo ruolo, come in una squadra di occhi. Non tutti sono capaci di segnare, c'è chi difende. Ma cosa succede alla polenta se si gira nel senso contro orario? E questa è una bella domanda. Esplode la polenta. Non so se Sofia ci sente ancora. Ci sente ancora? In effetti abbiamo una domanda. Andreas, una domanda per Sofia. Dimmi. Ma in effetti, se la giri in senso anti-orario, che cosa succede? Non lo so, però Chef Ezio, che è mio papà, che non sa cucinare, dice solo senso orario. Sai che ti vedo un po' distratto, però? È come se il tuo sguardo cercasse una... Vedo dei piatti. Voi non lo potete sentire, ragazzi. Però c'è un profumo qui in studio. Sofia, grazie. Guarda. Ve l'ho cucinata, ve l'ho fatta. Ma è proprio... Bergamasca. Bergamasca originale. Vado a controllare. Poi fai... Apriamo. Accidenti. Bella ancora calda. Cosa facciamo a questo punto? Ma guarda, se mi dai piatti... Io, guarda, faccio il cameriere, tu fai le porzioni e questo momento potete invidiarci tranquillamente. Non so le volte che abbiamo invidiato i nostri telespettatori, perché guarda che bello. Guarda, ti do la tua porzione. È la mia porzione? Sì, sì. Un po' poco, però vabbè. Un po' poco e dopo facciamo il bis. Ah, ma questa è la mia, quindi? Questa è la tua. Ah, va bene. Fantastico. Ma proprio poi la consistenza vorrei far notare, perché questa cosa è importante. Ma la polenta, se non è fatta bene, non può essere... Questa è la mia porzione, avete capito? Ma quindi io adesso cosa faccio? Tu puoi sederti. E ma tu come fai? E agli altri due... Ma dai, almeno un piatto, ti posso tenere almeno un piatto? Va bene, allora tieni... Ecco, bene, ok, quindi la polenta di Sofia Goggia, ragazzi. Questa passerà alla storia. Ma per le tue amiche... No, per i miei amici no, la faccio un'altra volta a Bergamo. Va bene, allora... Questa rimane in Svizzera. Fantastica. Te mettiamo due funghetti. Due funghetti e su queste immagini, che spero veramente vi abbiano messo la colina in bocca, io vi ringrazio. Allora, ringrazio ancora te, Sofia, perché non è da tutti mettersi in gioco. Mi porti le forchette e i tovaglioli, per favore? Certo, intanto io sto salutando i nostri telespettatori, che rimarranno comunque sulla 2, perché tra poco c'è Giacomo Mocetti con la Domenica Sportiva. Vi ricordo che martedì c'è il sorteggio per i play-off dei mondiali, quindi sapremo la Svizzera con chi giocherà e poi insomma ci sono tanti altri appuntamenti. Grazie ancora a tutti voi. Stefano, ti interrompo. La casa propone una polenta tipica di Bergamo, farina di mais con grano saraceno, con dei funghi raccolti nella Valle Magna, che è una valle vicino a Bergamo. Buon appetito. Un lavoro eccezionale. Grazie e buon appetito. Adesso posso prepararti un piatto? Va bene. Allora, siediti e vai. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.